E' iniziata in 1200 edicole la distribuzione gratuita ai cittadini toscani delle mascherine filtranti messe a disposizione dalla regione per l'emergenza coronavirus. Previa presentazione della tessera sanitaria fino al 15 di giugno, ogni toscano può ritirare dal giornalaio due pacchi da cinque mascherine. Nelle due settimane successive sarà possibile ritirare il resto della dotazione individuale con lo stesso sistema. In pratica sarà distribuito un milione di mascherine al giorno per un totale in fondo al mese di circa 25 milioni di mascherine. L'operazione è frutto di un accordo fra la regione, i distributori di giornali e i titolari delle edicole. Il sistema sanitario regionale ha già caricato nella tessera sanitaria di ciascun cittadino residente in Toscana e con più di sei anni la ricetta elettronica per le mascherine gratuite, mentre le edicole coinvolte sono state dotate di appositi lettori tramite smartphone, tablet o pc. Dall'inizio dell'emergenza ad oggi sono state distribuite tramite le farmacie, i supermercati e i comuni 55 milioni di mascherine messe a disposizione gratuitamente dalla regione.